impotente divenne impotente come una foglia al vento se mi aggrappavo al corpo di una donna ne ero subito strappato il suo corpo era un dolce luogo dove non potevo più andare perché commento perché in più vite hai frenato l'onda imminente dello sperma al di fuori del corpo delle donne